Il Tribunale del Riesame dovrebbe pronunciarsi in serata sulla scarcerazione dei sette indagati nell'inchiesta per truffa su sereni orizzonti, tra questi il presente Blasoni da tre settimane in cella. Conti correnti svuotati dopo l'acquisto di materiale online, la truffa del postamat prende piede anche in Friuli, i carabinieri di Sacile hanno pizzicato e denunciato 17 responsabili e sparite migliaia di euro. Un uomo di tricesimo non dava notizie di sé da dieci giorni, i parenti temendo il peggio hanno denunciato la scomparsa, i carabinieri poi lo hanno trovato a casa sano e salvo in relax. E' stato lanciato ad Azzano Decimo il manifesto del piccolo commercio a favore della spesa responsabile da parte dei cittadini e per la valorizzazione degli acquisti sotto casa. Tra i celebri casi di dentro i secondi che la storia recente del calcio regala a nessuno, assomiglio a quello di Gotti e al suo incarico ad interim, l'Udinese si ispira al Barcellona e allo staff costruito in house. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. E' atteso ad ora il pronunciamento dei giudici del Tribunale del Riesame di Trieste per la scarcerazione delle persone ancora in cella a seguito dell'inchiesta della Guardia di Finanza sul gruppo Sereni Orizzonti. Tra loro il Presidente Massimo Blasoni rinchiuso nella casa circondariale di Udine da ormai tre settimane. Il Tribunale del Riesame di Trieste ha preso in esame questa mattina la richiesta degli avvocati, delle persone indagate e ancora detenute in carcere a seguito dell'inchiesta avviata dalla Guardia di Finanza di Udine sul gruppo Sereni Orizzonti per presunta truffa ai danni del sistema sanitario nazionale. L'udienza ha preso via le nove ed è terminata. Intorno alle 14 i tre giudici si sono riservati la decisione che potrebbe arrivare già nella prima serata di oggi. Non escluso tuttavia che i giudici possano esprimersi anche nella giornata di domani. Il Collegio Difensivo, che difende tra gli altri anche il Presidente del gruppo Massimo Blasoni, riferisce che si è trattata di una lunga e complessa udienza. Il Pubblico Ministero ha esposto i risultati dell'indagine che si sono prolungati. Oltre alla fase degli arresti nella contingenza, sono state sentite infatti numerose persone acquisiti nuovi atti e documenti. I legali quindi confidano che ormai siano avvenute meno le esigenze cautelari in carcere e che adesso si possa quindi andare a discutere dei contenuti dell'inchiesta, più che sui numeri e in particolare sulle intercettazioni. È stata ribadita da parte loro la posizione degli indagati. Non c'è mai stato un disegno preordinato finalizzato a fornire meno assistenza agli anziani. L'obiettivo era quello di ottimizzare le risorse per rendere efficiente il gruppo con tutte le sue strutture su tutto il territorio nazionale. 17 persone sono state denunciate dai carabinieri di Sacile. In 13 casi, raggiravano anche persone di Sacile e Bruniera, avevano messo in piedi la truffa del postamat, sottraendo migliaia di euro a chi aveva cercato di vendere articoli online. I carabinieri della stazione di Sacile, per arginare il sempre più diffuso fenomeno delle truffe online, hanno denunciato alla procura di Pordenone 17 persone, 13 delle quali a vario titolo ritenute responsabili della cosiddetta truffa del postamat. Si tratta di residenti in Veneto, Trentino, Abruzzo, Campania, Lazio e Sicilia. Le vittime, residenti a Sacile e Bruniera e nei comuni trevigiani di Gaiarina e Godega di Sant'Urbano, dopo aver inserito in vendita nelle varie piattaforme online i beni, sono state contattate telefonicamente da fantomatici compratori. Al lato di stabilire le modalità di pagamento, questi hanno convinto le vittime dell'esistenza di un sistema di accreditamento del denaro in linea diretta presso gli sportelli del postamat, attraverso il semplice inserimento della tessera, seguendo in tempo reale le indicazioni telefonicamente fornite dagli astuti truffatori. In questo modo, il venditore credeva che il denaro sarebbe stato trasferito direttamente sul suo postamat, quando invece si è verificato il movimento contabile esattamente inverso. Anziché essere accreditato il venditore, l'importo è finito a rimpinguare le carte post-pay evolution dei truffatori, in alcuni casi anche per importi notevolmente superiori a quelli pattuiti per la vendita del prodotto. Le vendite riguardavano vari articoli, dalle gomme da neve alle biciclette, dalle autovetture ai divani, fino a un set di asciugamani, da pochi euro a migliaia di euro. Denunciato per truffa aggravata e sostituzione di persone anche un 26enne di crotone, che per vendere un moto coltivatore si era finto carabiniere, postando una foto in divisa. Nei guai per truffa, tre soggetti residenti in Emilia Romagna e Campania, per aver incassato i soldi senza consegnare la merce. L'indagine, attuata mediante prolungati accertamenti, svogli acquisendo ingenti dati e riscontri delle compagnie telefoniche, verifiche su piattaforme online e sul sito delle poste italiane, ha permesso di identificare e raccogliere inconfutabili elementi di reità nei confronti dei truffatori, tutti già denunciati in precedenza per la stessa tipologia di reato, ovvero truffa aggravata. Sono sicure le mense delle scuole del Friuli Venezia Giulia. Nei 30 istituti controllati dai carabinieri del NAS di Udine, infatti non sono emerse problematiche legate alla qualità del cibo destinato agli studenti. Notizie rassicuranti emergono per le mense delle scuole primarie e per le materne del Friuli Venezia Giulia. Si è conclusa infatti in questi giorni la campagna avviata dal nucleo antisofisticazioni di Udine su indicazione del Ministero della Salute relativa ai controlli nelle mense degli istituti educativi. 30 le strutture che sono state monitorate, sia quelle che sono dotate di una mensa interna che quelle che utilizzano un catering esterno. Non sono emerse alcun tipo di criticità per quanto riguarda cibo mal confezionato, sporcizie adatte di scadenza non rispettate o cattivo confezionamento. Sono stati controllati anche i centri di cottura che forniscono da 5 a 8 scuole in regione, compresi i mezzi che vengono utilizzati per il trasporto dei pasti incelofanati singolarmente. Gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno rilevato solo alcune irregolarità di tipo amministrativo, legati ad esempio alla mancanza del cartello che indica il divieto di fumare nei locali mensa, oppure in alcuni casi non era specificato il responsabile della mensa che comunque era presente. Adesso i carabinieri del NAS si concentreranno sui controlli relativi ai prodotti tipici delle festività natalizie. E sarà la primaria Frucca dei Rizzi, la prima scuola pubblica di Udine a dotarsi di una mensa con cucina interna. Il progetto è stato approvato oggi dal Comune di Udine. La scuola primaria Frucca dei Rizzi avrà una mensa interna con tanto di cucina. È il primo caso a Udine. Oggi abbiamo portato in giunta una delibera per provare una convenzione con l'associazione Alveare per fare in modo che la mensa diventi di tipo A. Per cui la prima mensa pubblica delle scuole primarie di Udine che avrà questa tipologia. Cosa significa la mensa di tipo A? È un tipo di mensa che prevede la preparazione dell'intero pasto all'interno della mensa della scuola. Ecco, quindi cosa unica mai successa nelle scuole pubbliche, magari nelle private sì, ma nelle pubbliche no. E quindi la presenza della cooperativa all'interno della scuola? Sì, è un APS, l'associazione Alveare, che già collabora con l'istituto scolastico e collabora con il Comune per quanto riguarda la scelta delle derrate alimentari. Udine vuole diventare sempre più città green. Presto si doterà di 20 nuove vetture elettriche. Il Comune di Udine sostituirà gradualmente il parco auto, cominciando da una ventina di vetture. Nell'ambito del progetto Noemix, cofinanziato dalla Regione, saranno sostituite da auto elettriche che potranno essere utilizzate anche da altri comuni. L'amministrazione udinese ha anche approvato l'acquisto di auto auto elettriche che saranno utilizzate dalle assistenti sociali e ha previsto l'installazione di nuove colonnine di ricarica in zone strategiche, tra le quali Piazzale e Paolo Diacono nei pressi del Palamostre. Lo ha comunicato il Vice Sindaco di Udine, Lauris Michelini, il quale ha anche annunciato prossimo avvio di nuovi cantieri in città per la realizzazione di marciapiedi e nuove asfaltature, in modo particolare nei Pepe Este e Oveste. Per il 2020 è prevista anche l'ultimazione in porfido di alcune vie centrali, Gemona, Superiore, Palladio e Grazzano, e il rifacimento di via Vittorio Veneto, in vista del collegamento della pista ciclabile Alpe Adria con via Quileia. La Giunta Comunale ha anche approvato una variazione di bilancio di 200.000 euro per gli imprevisti incontrati nella sistemazione di via Mercato Vecchio e ha dato il via libera al recupero del campo federale di Santo Svaldo. Sarà ripristinato dal Comune attraverso una convenzione trentennale con la FIGC. Sono previsti un affitto simbolico di 400 euro al mese e la sistemazione con mutuo agevolato del credito sportivo. L'impianto sarà quindi messo a disposizione della comunità. A Udine è stata lanciata una raccolta firme per salvare dalla demolizione Cascina-Mauroner. La petizione però ha visto un particolare scontro in famiglia. Salmè padre contro Salmè figlio. Guerra in famiglia a Udine contro l'abbattimento dell'ex complesso di Cascina-Mauroner, lo storico immobile posizionato ai margini del quartiere Aurora. In queste ore Antonio Salmè, presidente del Comitato Quartiere di Giusto ed ex presidente di circoscrizione, ha deciso di avere una petizione popolare per chiedere il blocco della demolizione stabilita dalla Giunta il 5 novembre scorso. Quell'intervento era stato invocato dal Consiglio di Quartiere Udine di Giusto, preseduto da Stefano Salmè, figlio di Antonio, che riunitosi in assemblea il 17 settembre, aveva deciso di segnalare all'assessorato i lavori pubblici tra gli interventi prioritari da eseguire nella zona del Pepe Est Udinese proprio la distruzione del fabbricato. Per Antonio Salmè la demolizione del faticente complesso, una delle poche testimonianze della civiltà contadina ancora presente a Est della città, significerebbe il completo abbandono di un quartiere d'anni dimenticato e alla ricerca di dignità. Secondo il Comitato, il fabbricato dovrebbe essere posto al centro di una riqualificazione che vada a valorizzare il terzo polmone più verde del capoluogo friulano. Con questa eventuale iniziativa si riscrive nuovamente di essere al centro di gravi disagi che si sperava di eliminare confidando nei programmi elettorali di questa maggioranza, ha spiegato Salmè padre. Ancora a volte invece veniamo dimenticati e danneggiati da una politica che mira forse ad interessi particolari. Stefano Salmè smorza i toni spiegando che si tratta di una battaglia storica del padre. Su questo punto abbiamo opinioni differenti, ha commentato. Ora vedremo come andrà la raccolta firme, Se questa sarà la volontà dei cittadini del quartiere, da presidente di consiglio ne prenderò atto. Io comunque ho accettato l'abbattimento perché mi era stato detto che non c'era più nulla da fare per recuperare l'immobile. Se così non fosse, allora vedremo il da farsi. Su Facebook ha poi dichiarato una clamorosa inversione di marcia. Mi farò promotore di un'instanza per bloccare l'abbattimento. Abbatterla significherebbe distruggere la speranza di cambiamento nel quartiere. Rimpasto della giunta comunale di Udine. Il sindaco Fontanini rimanda alle decisioni ufficiali all'incontro con le segreterie regionali dei partiti della coalizione di centrodestra previsto per la prossima settimana. Al momento conferma che l'assessore Pizzoccaro di AR potrebbe essere sostituito ma nulla trappella su un possibile nuovo ingresso di un rappresentante di progetto FIVG. Ci sarà o non ci sarà un rimpasto di giunta? L'assessore Pizzoccaro non va più d'accordo con l'autonomia responsabile quindi sarò obbligato a sostituirlo in giunta. Poi c'è il problema del progetto FVG. Anche qui ci sono delle questioni sollevate ultimamente. Dobbiamo ricostituire un po' il rapporto con questa componente che ricordo hanno già il vice sindaco che è Loris Michelini ma loro chiedono anche un'ulteriore presenza in giunta. Sto valutando, sto vedendo un po' anche con i responsabili a livello regionale cosa fare. È probabile che si farà un rimpasto però mi sono dato come appuntamento il lunedì 18 e ho chiesto la presenza di tutti i segretari che sorreggono la mia maggioranza per fare il punto della situazione e quindi annunciare anche questo rimpasto che oramai è alle porte. Ma lei mi par di capire ha già le idee ben chiare? No. Lei sa già. Ben chiare no, le idee ce le ho già, so come fare però voglio avere la solidarietà e soprattutto l'autorizzazione anche perché non avvengono più delle incomprensioni o dei mal di pancia come sono verificati in queste settimane e voglio da parte dei responsabili politici l'assicurazione che le cose vadano avanti come devono andare avanti. La riunione di oggi del Consiglio regionale si è aperta con la commemorazione dei tre vigili fuoco morti nell'attentato doloso alla Cascina nell'Alessandrino e ricordando anche cinque militari feti in Iraq. Il gesto di solidarietà nei confronti dei pompieri è stato suggerito dal consigliere del PD Diego Moretti che ha chiesto la vicinanza del Consiglio con un minuto di silenzio alle famiglie dei tre vigili del fuoco a quello del pompiere ha detto un mestiere che quotidianamente è sottoposto a rischi e pericoli ritengo sia doverosa la nostra solidarietà a questo corpo. Il Presidente del Consiglio, Piero Mauro Zanin ha fatto sapere che è stato formato il tavolo politico per l'elaborazione di un progetto inerente al sostegno alle famiglie di appartenenti ai corpi militari e civili dello Stato e di enti territoriali caduti nell'adempimento del proprio dovere restituito dalla conferenza dei capi gruppo nella seduta del 22 ottobre scorso sarà lo stesso Zanin a presiedere il tavolo politico Zanin ha quindi ricordato anche cinque militari italiani rimasti feriti in Iraq L'augurio personale dell'intera comunità è che questi uomini possano ristablirsi quanto prima ha concluso Zanin Esercitazione stamattina in porto a Monfalcone con la simulazione di un incendio nella sala motore di una nave La banchina Porto Rosega del porto di Monfalcone è stata la cornice per l'esercitazione anti-incendio congiunta di varie forze dell'ordine ad essere coinvolta solo a fini esercitativi la nave battente bandiera Maltese Mediquina ormeggiata in porto Esercitazione è stato il banco di prova per testare la sinergica interazione dell'autorità dei denti a vario titolo coinvolti nell'attività anti-incendio portuale Sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Monfalcone sono intervenuti il personale delle 118 della Corce Rossa italiana i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia del distaccamento di Monfalcone la polizia di stato settore polizia di frontiera marittima ed aree del terzo settore l'autorità di sistema del nord-est ormeggiatori piloti del porto rimorchiatori e tanti altri attori come la protezione civile monfalconese Lo scenario particolarmente complesso ha visto la lotta anti-incendio il recupero di persone ferite da spazi ristretti il primo intervento sanitario ed infine l'allontanamento in emergenza dell'unità Imponente ed efficace anche lo schieramento che ha visto mezzi terrestri e navali impegnati nelle attività di intervento dopo il soccorso delle persone ferite è stato il momento degli ormeggiatori della protezione civile per un eventuale contenimento delle acque inquinate Lo cercano tutta la notte temendo fosse rimasto vittima di un malore o caduto durante una passeggiata lui un pensionato di tricesimo che i parenti non vedevano da dieci giorni alla fine è tornato a casa da solo voleva solo stare un po' da solo Cinque le persone che sono scomparse nell'arco di una sola settimana tra le province di Udine e di Gorizia per tre di loro la situazione si è risolta positivamente mentre non sono stati ancora rintracciati il 35enne di Cervignano e il pensionato di Gorizia La tensione e la sensibilità della comunità friulana e dei soccorritori sono altissime nei casi di persone scomparse in cui è necessario muoversi immediatamente per non perdere tempo prezioso per salvare vite umane a volte le cose vanno diversamente ma sempre a lieto fine come per l'uomo di Tolmezzo ritrovato poi a Venezia o come nel caso del pensionato di tricesimo i cui parenti hanno denunciato la scomparsa preoccupati perché non lo vedevano ormai da dieci giorni è bastata poco più di un'ora per attivare immediatamente la macchina dei soccorsi monitoraggio notturno con tanta ansia per poi scoprire che l'uomo era tornato a casa tranquillamente da solo evidentemente aveva voluto ritirarsi per un periodo da dedicare tutto a se stesso un sospiro di sollievo tra i soccoritori comunque pronti a una nuova emergenza per aiutare chi è nella difficoltà notizie di cronaca appena raggiunte in redazione che trovate online sul nostro sito un pulmino della scuola è finito in un fosso osoppo nella zona dei Rivoli nel primo pomeriggio di oggi per fortuna nessuno è rimasto ferito in corso invece un soccorso in autostrada lungo la A23 all'altezza di Gemona dove due mezzi pesanti si sono scontrati ed è scoppiato un incendio parliamo della tassa sulla plastica che è in esame per la manovra del governo ma non piace alle categorie economiche secondo le quali sono uno strumento per fare soldi con la scusa di proteggere l'ambiente una tassa che non fa bene all'ambiente penalizza le aziende e mette le mani in tasca ai cittadini la plastic tax sulla quale sta ragionando il governo tra le novità nella bozza della manovra viene vista di cattivo occhio dalle categorie economiche per Confindustria che vuole tutelare le aziende associate del settore calcoli alla mano la tassa che colpirebbe borse, bottigliette e altri articoli di uso quotidiano potrebbe incidere sulle famiglie per circa 109 euro all'anno questa qua è una tassa assurda che diventa semplicemente un'iva mascherata e che per le nostre aziende sarebbe una mazzata soprattutto in questo momento anche per i cittadini perché poi le aziende la fanno pagare i cittadini perché riversano il costo sulla vaschetta dove c'è il petto di pollo con sopra il film la vaschetta di plastica e il film di nylon sopra e l'utente pagherà quel petto di pollo qualcosa in più di quello che lo paga adesso anche Confcommercio esprime preoccupazione per un rimedio che sembra un palliativo una tassa del genere fa sicuramente male se non ha una progressività cioè le aziende dovevano avere il tempo di essere preparate detto questo il tema dell'ambiente è un tema importante è un tema che ci deve coinvolgere tutti nessuno escluso ma ci deve coinvolgere ancora prima che di agire su chi la produce su chi la ricicla perché questo è il vero problema insomma a parere delle categorie economiche è una tassa che serve più a rastrellare soldi che a fare il bene del paese è una follia c'è un governo cleptomane che non ha un'idea di dove andare a rastrellare i soldi perché ha fatto una manovra tutta in debito e quindi va a fare tutte queste tassette di cui man mano che si vanno a leggere i capitoli ci si accorge e ci si accorge che ci stiamo tagliando l'albero su cui siamo seduti nel secondo trimestre 2019 i distretti del nord-est hanno dato segnali di ripresa delle esportazioni che hanno superato gli 8,6 miliardi di euro con un aumento dell'1,3% e vertendo il segno negativo osservato nei primi tre mesi dell'anno il dato emerge dal monitor dei distretti industriali del Triveneto relativo a fine giugno 2019 curato dalla direzione studi ricerche intesa San Paolo pubblicato oggi i distretti del Trentino Alto Adige si sono maggiormente avvicinati al tasso di crescita nazionale più 2,9% al 3% quello nazionale seguiti da quelli veneti più 1% e da quelli del Friuli Venezia Giulia pressoché stabili più 0,4% ad Azzano Decimo questa mattina è stato presentato il nuovo mandamento azzanese di Ascom che prevede un nuovo ufficio in comune nel contempo è stato lanciato il manifesto del piccolo commercio in favore di una spesa responsabile da parte dei cittadini che valorizzi gli acquisti sotto casa il commercio azzanese in crescita trova una propria autonomia da oggi attivo il nuovo ufficio mandamentale di Ascom aperto in municipio al primo piano l'ufficio sarà fruibile dagli associati dei comuni di Azzano Decimo Fiume Veneto Chions Pravis Domini Prata e Pasiano ogni mercoledì mattina dalle 10 alle 13 una novità importante dovuta anche ai numeri significativi del commercio azzanese nel 2018 abbiamo fatto somma 0 tra aperture e chiusure invece nel 2019 siamo per il momento a più 5 aperture quindi abbiamo guadagnato in un certo senso 5 attività commerciali e di prossimità il commercio si sta dirigendo sempre di più verso i servizi alla persona verso la ristorazione mentre c'è una tenuta e un calo leggero per quanto riguarda il settore ad esempio dell'abbigliamento o del viestario in generale oggi sicuramente un mattone importante in quello che stiamo costruendo per il commercio ad Azzano nell'occasione è stato presentato anche il manifesto del piccolo commercio che invida i cittadini a fare la spesa in modo responsabile possibilmente sotto casa oggi è una giornata per noi importante significativa non è assolutamente un punto d'arrivo ma è un punto di partenza il manifesto del piccolo commercio rappresenta sostanzialmente un decalogo che sostanzialmente porta la nostra amministrazione a consigliare e non solo a consigliare ad attivarsi concretamente per dire alla nostra cittadinanza spendete bene cioè spendete ad Azzano spendete nei negozi di vicinato i negozi di vicinato continuano a costituire un elemento centrale della nostra economia grazie alla professionalità all'umanità e alla capacità di interpretare e di leggere quelli che sono i bisogni della cittadinanza combattete per i vostri sogni perché riuscire a realizzarli sarà la soddisfazione più grande della vostra vita è il consiglio che Manuel Bortuzzo ha rivolto ai giovani studenti in un incontro ieri al Caffè Rossetti poco prima dell'inizio dello spettacolo in suo onore lo riporta al quotidiano il piccolo Manuel visibilmente emozionato è arrivato con la fidanzata e dopo l'impaccio iniziale è raccontato della sera in cui è stato ferito il proiettile non l'ho sentito non ricordo nulla e di quando risvegliatosi gli è caduto il mondo addosso quando gli hanno detto che non poteva camminare non date per scontato tutto quello che la vita vi dà e se avete un sogno di realizzare inseguitelo perché quando raggiungerete ciò che vi eravate prefissati saprete stare veramente bene ha detto ai ragazzi Manuel Bortuzzo rimaniamo allo sport con l'Udinese e con un Gotti con Gotti confermato ad Interim sulla panchina bianconera la società ha creato un unicum nella storia del calcio ma in generale la società bianconera per quanto riguarda lo staff tecnico si sta muovendo in maniera innovativa per interpretare il presente capita ci sia fide la storia recente o più lontana ma ci sono i casi nei quali i termini di paragone non si trovano almeno non con precisione il caso Gotti è uno di questi Marino responsabile dell'area tecnica bianconera ne ha definito il ruolo con una metafora oggi parlando radiosportiva Gotti in questo momento è come un medico di famiglia che si è messo a disposizione della società non è dato sapere quanto questa situazione possa durare ed è questo a rendere la situazione bianconera totalmente nuova di casi celebri da dentro i secondi il calcio ne ha vissuti da Di Matteo che doveva fare il traghettatore dopo Village Boas e ha vinto addirittura un titolo continentale a Carrera per sostituire lo squalificato Conte fino alla successione in famiglia di Guardiola con Tito Villanova prima e poi a Cascata dal semi sconosciuto Jordi Roura Barcellona che citiamo non a caso è lì che nasce l'idea di crescere nella cantera non solo i talenti in campo bensì anche degli allenatori che si formino nella pancia del club e che non siano più degli elementi in arrivo da fuori che portano con sé tutto il loro mondo le loro convinzioni il loro staff l'ultimo ad arrivare a Udine con uno staff vero e proprio è stato Davide Nicola da lui in poi le cose sono radicalmente cambiate appena qualche giorno dopo la sua nomina dalla Spagna arrivò Bonilla con l'innovativa etichetta di responsabile della metodologia allo stesso modo poco dopo la conferma di Tudor è arrivato il nome di Gotti per integrare lo staff tecnico che l'Udinese sta costruendo sempre più come apparato fisso basti ricordare che ufficialmente il vice di Tudor era ancora Vucco lo testimone al comunicato di esonero del primo novembre scorso eppure ancora prima al posto di Tudor contro il Torino in panchina c'era andato Gotti il test di questi giorni l'unicom che si sta creando potrebbe anche essere copiato in una serie A nella quale la vita degli allenatori si sta facendo sempre più complicata e sola superato l'infortunio a quello attenuto fuori un mese Larsen è tornato anche in nazionale da ritiro della selezione il difensore ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche del suo futuro rivelando di aver iniziato le trattative con l'Udinese per rinnovo del contratto che scade nel 2021 ma di non aver ancora trovato l'accordo è in programma un amichevole per l'Udinese con la sosta di campionato i bianconeri infatti saranno di scena in una gara internazionale sabato prossimo 16 novembre all'ora 15 contro lo Spartax Jurmala allenati dall'italiano Nunzio Zavettieri invece vi ricordo che l'informazione torna alle 20.45 da Pordenone alle 21 prima serata lo scrigno di Daniele Paroni si parlerà di Castagne con anche diversi ospiti che arriveranno dalle valli del Natisone è una puntata da non perdere grazie a voi per l'attenzione buona serata con Terefriuli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti